Vi ricordate il video sui geosinonimi che ho registrato qualche settimana fa? Alcune regioni si chiama gru? Beh, dovete sapere che i geosinonimi hanno anche dei cuginetti che si chiamano ge-o-omonimi. Ge-o-o-mo-ni-mi! Partiamo! Vabbè, ma sti ge-o-omonimi, che so, direte voi giustamente, i ge-o-omonimi funzionano al contrario rispetto ai cuginetti, rispetto ai geosinonimi, perché queste parole sono identiche nella forma, ma a seconda della zona, a seconda della regione, indicano oggetti diversi. Quindi queste parole, anche se uguali nella grafia, significano cose diverse. Avete capito, mo? Esempio. Pensiamo ad esempio alla tovaglia. Io uso la tovaglia per coprire il tavolo, poi ci metto i piatti sopra e poi nei piatti ci schiaffo la carbonara. Un'altra persona in un'altra regione usa la tovaglia per prendere il sole o per asciugarsi le mani. Lo sapevate? Chiaro, no?